Allora, non so se in questi casi anche via stream bisogna salutare le persone che ci guardano dall'altra parte della telecamera. No, diciamo due o tre cosette di introduzione per contestualizzare la presenza di Gianni Dotti qui. Allora, noi abbiamo attivato questo laboratorio dal basso, poi ci spiegheremo meglio che cos'è nello specifico un laboratorio dal basso, per una ragione, perché da ormai quasi un annetto, più o meno noi, più anche qualche altro con cui collaboriamo, noi siamo un'equip variegata di psicologi, educatori, sociologa, fisioterapista, insomma siamo un'equip di persone che si sono trovate nel condividere un'idea fondamentale. Quella che la persona con ritardo mentale, proprio in quanto tale, è un soggetto di diritto, cioè una persona che ha dei diritti e in quanto persona che ha dei diritti, chi lavora con questa persona ha secondo noi il dovere non di lavorare sul ritardo mentale, ma di lavorare per creare le condizioni affinché questa persona possa affermare i propri diritti. Questi diritti per noi sono il diritto di cittadinanza, diritto all'autonomia, diritto al lavoro. Ci siamo ritrovati appunto in quest'idea e abbiamo messo su un'organizzazione, un'organizzazione che eroga appunto tutta una serie di servizi, abbiamo il centro di lavoro guidato, le abilità lavorative, l'autonomia abitative, le abilità sociali, stiamo mettendo su qualcosa che abbia a che fare appunto con la domotica, con gli osili, perché via via il tutto è partito dalla vincita di un bando regionale per le politiche giovanili che è principi attivi nel 2012, con cui abbiamo messo su questo appartamento scuola in cui insegnare le autonomie abitative. Poi pian piano è venuto da sé che se deve andare a fare la spesa deve saper contare i soldi, deve saper attraversare la strada, deve avere un lavoro con cui guadagnare, insomma abbiamo capito che fare solamente una singola cosa era un po' isolante, tra virgolette, rispetto al mondo che gira intorno alla vita di una persona. Ora con quest'idea, con l'idea che noi vogliamo essere portatori sani, diciamo, di un passaggio storico che passa dall'assistenzialismo e non dall'assistenza alla vita indipendente, intesa come la possibilità per la persona di reciprocare, cioè di restituire agli altri quello che per una vita in genere gli viene dato, abbiamo deciso di creare questo laboratorio in cui vorremmo che alla fine nascesse un nuovo sapere, cioè vorremmo che nascesse qualcosa che oggi ancora non c'è, di cui noi non siamo ancora a conoscenza, per quanto le nostre menti vogliono immaginare in maniera un po' visionaria, tra virgolette, qualcosa che possa dare alla comunità tutta, quindi intesa sia ai cittadini, sia agli enti locali, sia alle amministrazioni, quindi sia a chi in un certo senso usufruisce di un servizio, sia a chi lo dà, la possibilità appunto di modificare quello che oggi è il sistema di gestione dei servizi, cioè investire le risorse, e non solo risorse economiche, risorse anche intese in senso temporale, in senso di energie, in senso di prospettive proprio, non nel finanziare delle singole entità a cui si rivolgono queste persone, ma investire sulle loro vite, sui loro progetti di vita personali. Ora, in questo senso, la presenza di Gianni Dotti, per noi, innanzitutto c'è da dire che prima... No, no, non stavo dicendo nulla. Prima di Gianni Dotti abbiamo avuto altre persone che ci hanno illustrato un po' la situazione storica della disabilità in Italia e un po' nel mondo, il passaggio storico nei vari secoli, nei vari decenni, negli ultimi decenni, e il sistema di welfare attuale, un po' per contestualizzarci all'interno, diciamo siamo nel 2015, siamo in Puglia, in Italia, per capire quali sono le regole, come funziona adesso il sistema di welfare, e così via. Avremmo voluto fare un confronto tra il nostro sistema e quello della regione Sardegna, dove sappiamo che vige un modello di gestione molto innovativo, che appunto è orientato in questa direzione dell'investimento sui progetti di vita, però purtroppo la docente non è potuta venire per problemi personali, ma ci auguriamo che questo possa avvenire ovviamente successivamente. Ora appunto la presenza di Gianni Dotti è, noi vorremmo fare questo passaggio, cioè vogliamo andare in questa direzione, sappiamo che più o meno è lì, però non è che proprio abbiamo capito dov'è che vogliamo andare, insomma, e la domanda più, diciamo, più spontanea che ci viene a dire è, ma come si fa? Cioè nel senso, come facciamo a operare questo passaggio di prospettiva, cioè a ribaltare le cose? Prima noi internamente, perché noi adesso funzioniamo come, tra virgolette, come una qualsiasi altra organizzazione, cioè ci sono dei professionisti, c'è un servizio e ci sono degli utenti. La nostra domanda è, forse bisogna modificare anche questo modo di fare le cose, no? Cioè forse è proprio qui che deve cambiare, prima che possa cambiare a un livello più alto, tra virgolette. Allora questa è la nostra domanda un po' da cento milioni. Sul perché siamo in un laboratorio dal basso e sul significato del laboratorio dal basso, forse tu vuoi dire qualcosa? Non mi ricordo come ti chiami, Daniele? Allora, innanzitutto benvenuti, buongiorno a tutti, io sono Domenico Centrone, per l'appunto sono uno dei referenti di questa iniziativa regionale, il cui nome è per l'appunto Laboratori dal basso, un'iniziativa voluta dal programma regionale per le politiche giovanili bollenti spiriti e l'ARTI, quindi l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Brevemente due parole sull'iniziativa che oggi ci permette di essere qui. Diciamo che l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori dal basso, percorsi di apprendimento quindi ideati, progettati dagli stessi proponenti e quindi fruitori, quindi alla base di tutto ci sono per l'appunto le esigenze di apprendimento delle giovani associazioni e microimprese pugliesi che per l'appunto mettono a frutto quelle che sono le proprie esigenze di apprendimento identificando quindi cosa apprendere, da chi apprendere e anche come apprenderlo, quindi anche le modalità formative. L'iniziativa di Laboratori dal basso si declina in tre azioni, i laboratori che sono per l'appunto dei percorsi di apprendimento più o meno strutturati che possono avere una durata di fino a 100 ore, le testimonianze che sono invece degli incontri brevi, one shot con protagonisti del modo dell'innovazione e dell'imprenditoria sempre in qualunque settore e poi una terza iniziativa che è un'iniziativa di mentoring in cui per l'appunto sono dei programmi di affiancamento in cui alla giovane realtà, alla giovane associazione microimpresa viene affiancata una persona che ha già maturato esperienza, quindi un mentor che quindi dona la propria esperienza, la propria rete di relazione, le proprie conoscenze a beneficio della giovane realtà seguita. Tutte e tre le iniziative sono attualmente o concluse o in fase di chiusura, comunque lo saranno entro il 31 di gennaio, quindi l'invito è, ci sono laboratori e testimonianze su qualunque settore, proprio perché l'approccio è totalmente dal basso, si parte sempre dai bisogni di apprendimenti dal settore in cui ciascun proponente opera, quindi qualora siete interessati alla programmazione dei laboratori dal basso, che se non ci sono laboratori sparsi in tutta la Puglia, l'invito è a seguire i nostri canali istituzionali, quindi il sito internet laboratoriodalbasso.it piuttosto che la pagina facebook. Brevemente due ringraziamenti, sicuramente il ringraziamento più grosso va ai proponenti perché se oggi siamo qui è sicuramente grazie alla loro progettualità e alla loro voglia di apprendere, poi sicuramente grazie ai docenti e al docente per aver accettato l'invito e naturalmente a tutti voi per essere oggi qui presenti. Io vi auguro un buon laboratorio. Allora, andiamo fino all'una? Avete un'abitudine di ritmo di lavoro? 18 ore senza stop. No, io... L'età aiuta! Capito? Quindi abbiamo tre ore e magari facciamo cinque minuti a un certo punto. Allora, devo un po' cambiare la vicenda perché da quello che... va bene, appunto, a proposito della modernità. Il materiale che vi ho portato magari lo usiamo... lo usiamo nel pomeriggio. Allora, l'ipotesi la montiamo così. Rismonto quel che avevo pensato. Perché pensavo di fare una cosa più legata alla sanità territoriale. Mentre mi sembra che bisogna fare un passo indietro. Non perché siamo indietro, ma perché... Ho capito male io, va bene? Ecco. Allora, proviamo a spendere la mattina per capire di che cosa stiamo parlando. No, perché è sempre una roba piuttosto complicata. Che è ciò che ci permette, forse, di... come dire... ipotizzare una visione. Perché non c'è nessun cambiamento senza visione. I cambiamenti non sono procedurali, non sono organizzativi, non sono... diciamo, di comportamento. I cambiamenti sono sempre legati all'immaginazione. Questo dopo 52 anni mi sento di dirlo con una certa tranquillità. Cioè, bisogna cambiare l'immaginario. Se non si cambia l'immaginario, non c'è nulla da fare. Cioè, facciamo tutte le volte il giro dell'occa, finiamo in carcere, e poi torna alla partenza e ritorni alla partenza. Cioè, bisogna cambiare l'immaginario del gioco dell'occa, capito? Ah, disponibile che a un certo punto, o lo parlo con il responsabile, voi mi cacciate, dite, non se ne parla per nulla. Anzi, spero che arriviamo anche a un certo punto di tensione. Perché se tutto va liscio, vuol dire che ci stiamo un po' prendendo per il culo. Cioè, non ci stiamo capendo. Giusto, segretaria? Allora, diciamo che la... Facciamo una cosa stamattina un po' più... appunto, un po' più frontale, utilizzando meno del materiale che avevo preparato. E quello vediamo nel pomeriggio, a che punto arriviamo quella mattina. Allora, probabilmente ve l'hanno già fatto al punto di vista storico, quindi io non sarò così analitico nel spiegare che cosa è successo ai sistemi di welfare. Quello che... Ah, facciamo... I prof? Ciao prof! Diciamo, spenderei una... Diciamo, almeno mezz'oretta per inquadrare il campo del gioco. E come, come dire... Come in questo momento mi sento anche con altri di interpretare questo campo del gioco. Questo campo del gioco, che sembra un campo del gioco, come dire, legato sostanzialmente a delle prestazioni professionali o a dei diritti, è invece un campo del gioco che riguarda moltissimo le dimensioni economiche e le dimensioni politiche. che sono la premessa, poi, nella costruzione strutturale di quello che è stato chiamato il welfare. Ah, voi siete come la curva su, di in piedi, bandiere, sedetevi. Di che, quanti anni avete? 18. Ah, beh, 18, allora si può fare una roba seria. Eh. Sono anche bravi. Sono anche bravi, se lo dice il prof. Tu gli hai già un po' spiegato che succede o bisogna... No. Eh, hai niente. Diciamola, dico così a voi, anticipando una cosa. Ragioneremo di come convivremo nei prossimi 30 anni. Se ce la faremo convivere. Poi useremo delle parole un po' strane, welfare, psicologhe, cioè cose un po', diciamo così, no? No, non particolarmente, diciamo, interessanti. Però il tema è come starete assieme con vostra moglie, vostri figli, vostri amici, il vostro vicino di casa. E' quello lì il vero tema. Senti, perché sono tutte psicologiche qua. Allora, dicevo che... Partiamo dal... Come dire, il welfare è, secondo me, un nodo simbolico. La cui trasformazione ci dirà se l'Italia ha qualche chance per farcela. Oppure siamo destinati definitivamente a finire nelle periferie delle periferie. Ma non parlo di Taranto, parlo di Milano, parlo degli ricchi. E quindi, secondo me, il welfare è interessante. Il welfare è il sistema di protezione che a un certo punto si è inventata la democrazia europea, ma, diciamo, per distribuire il valore dell'equità e dell'accessibilità alla società. Diciamo, è stato un compensativo al sistema capitalistico. E' chiaramente in crisi, ma non è in crisi da mo', eh. E' in crisi almeno da una ventina d'anni. Se qualcuno di voi ha la possibilità di andare in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, ai famosi paesi nordici, scoprirà che le trasformazioni in corso da tempo sono profondissime, mi è capitato di seguire personalmente diverse di queste trasformazioni. Quindi, al solito, no? Siccome i flussi, diciamo, dall'Ottocento in avanti vanno molto dal nord al sud, noi via via cominciamo a fare cose che altrove hanno cominciato 15 o 20 anni fa. Sempre funzionato così, purtroppo, nei processi culturali, eh. Secondo me la crisi aiuterà anche un po' a ribaltare la vicenda. Questo dipenderà un po' da noi, da cosa saremo in grado di dire. Quindi, in qualche modo, non sto parlando di un problema tarantino, pugliese, italiano. Sto parlando quantomeno di un problema europeo che andrebbe visto in generale nel mondo occidentale. Perché poi la parte, diciamo, americana l'ha sviluppato in tutt'altro modo. Però il sistema, l'idea di fondo è simile. Allora, però stiamo più concentrati, diciamo, sull'Italia. Qual era l'idea semplice che stava alla base del welfare? Era, noi dobbiamo avere un sistema istituzionalizzato, e uso questa parola, istituzionalizzato, che permetta alle persone, alla collettività, infatti si parla di welfare universale, perché il welfare è sempre esistito in un modo o nell'altro, nella storia dell'umanità, in modi diversi, soggettività diverse. Adesso non so da voi come si chiamavano le misericordie toscane del 1200, o i francescani minori che facevano i lazzaretti, che ha fatto, come si dice, i cappuccini, che ha studiato i promessi sposi. Cioè, il welfare, diciamo, come sistema per cui si cerca una possibilità, una via di cura e di reintegrazione, di sostegno alle persone che faticano, ripeto, in qualche modo è già rintracciabile anche prima del cristianesimo, cioè non è che con modi diversi. Potremmo dire che già Atene aveva delle cose che lo riguardavano. Comunque, così connotato come fu nel ventesimo secolo, come universale, cioè accessibile a tutti, è invece una vera novità, diciamo, delle democrazie occidentali, in particolare europee, perché l'America a un certo punto prende un'altra via, che ha, come dire, quindi un principio nobilissimo, a tutti deve essere reso accessibile, diciamo, si potrebbe dire così, un diritto di cittadinanza. Questo diritto di cittadinanza si esprime attraverso la cura, l'educazione, l'avere una casa. L'immaginario è però all'inizio, mi riferisco, insomma, al periodo, diciamo, soprattutto inglese, perché è stranissimo la cosa, tutti la immaginano solo come un meccanismo molto legato al socialismo, alla socialdemocrazia, ma Beveridge, ad esempio, era un liberale, cioè, è proprio un tema culturale, non è una... è una modalità di concepire la società, poi ci sono sfumature diverse, come dire, lo si immaginava particolarmente attento ad un certo tipo di popolazione, cioè l'idea era la società gira, produce nel suo girare delle distorsioni, delle difficoltà, dobbiamo fare in modo, diciamo, che quelli che vanno in difficoltà sia una malattia, piuttosto che un trauma, piuttosto che una difficoltà esistenziale, possono essere aiutati a rientrare. Ok, questa era... Ah, ma tenetelo conto, perché è questo che è andato fortissimamente in crisi. Quindi quell'universalismo sostanzialmente concentrava però risorse su dei gruppi di popolazione particolari. Cioè, rendeva accessibile a tutti, qui siamo alla scuola pubblica, però tu avevi questa particolare attenzione a tenere dentro quelli che se ne andavano in qualche modo fuori. E come avveniva sostanzialmente questo? Attraverso la tassazione, cioè noi avevamo una società che produceva economia, uno Stato che attraverso la tassazione recuperava pezzi del surplus di questa economia e ridistribuiva attraverso il welfare, esattamente, quell'equità che il mercato da solo non era in grado di generare. E' chiaro? Per quello che siamo arrivati, non so, al 45-50% di tassazione. Perché? Questo era il meccanismo. E cosa succedeva sopra? Il meccanismo poi ha avuto, diciamo, due grandi momenti. Voi qua oggi state vivendo, diciamo, il finale del secondo. Ma più salite, ripeto, verso nord, il secondo è già in qualche modo finito. Una prima parte che io chiamo di monetizzazione del danno. Tutte le pensioni, gli assegni di accompagnamento. Fino agli anni Ottanta era normale che l'assistente sociale in un comune cosa faceva? Aspettava il sabato i poveri che veniva, si faceva un assegno e gli dava l'assegno. Denaro. Si monetizzava il danno. Ok? A parte i due grandi circuiti, sanità e scuola, questo è quello che avveniva. Poi a un certo punto, invece, si è trasformata quella monetizzazione in, lui ha usato infatti una parola antichissima, che dobbiamo assolutamente superare, erogazione di servizi. Cioè, non ti do 300 euro, 400 euro, ti do un servizio. questo era esattamente il modello che si allargò in maniera, diciamo, pazzesca tra gli anni 50 e gli anni 70, che poi ha cominciato a sgonfiarsi. Quindi a qualsiasi bisogno corrisponde un diritto e un'erogazione di servizio. Chiaro? Questa cosa ha una sua curva molto precisa, di spesa, quindi, accanto alle due, ai due macrosistemi, il sistema dell'istruzione ed educativo, e quello sanitario, e quello pensionistico, tenete conto che questi tre sistemi sono più del 50% del budget statale. Adesso vado a spanne, però siamo molto vicini. Dipende dai periodi, perché i dati istate non so darveli giusti, però stiamo pensando a un blocco notevole. Tutto il resto, l'assistenza, gli interventi di socializzazione, in Italia è prevalentemente passato attraverso gli enti locali. Se voi andate a vedere i bilanci degli enti locali, singoli o da aggregati, voi vedrete che la voce, la vecchia voce dei servizi sociali, si è, diciamo, ha fatto dei picchi clamorosi. Ovunque, in misure diverse, ma dall'essere, diciamo, una cosa marginale in un bilancio negli anni 70, è diventata la seconda, terza voce della maggior parte degli enti locali. Tanto per farvi un'idea, vi do due città molto diverse. Milano, il comune di Milano spende, per il welfare, mezzo miliardo di euro. 250 in costi diretti di personale e strutture proprie e 250 in affidamenti. Per darvi un'idea, il comune di Roma non lo dice mai nessuno, da anni spende sugli homeless più di 50 milioni di euro. L'efficacia di questo intervento, io non sto raccontando, però stiamo ragionando, cioè 50 miliardi sono 100 miliardi di vecchie lire. Il comune di Modena è arrivato, il comune di Modena che fa 120 miei abitanti è arrivato a 45, 50 milioni di euro sul welfare. O se i dati Palermo perché vengo dalla Sicilia sono notevolissime perché poi quindi stiamo parlando di cose assolutamente rilevanti che hanno costruito tutta un'infrastruttura di vario genere e natura che prima non esisteva. Hanno dato via a tutta una serie di carriere, di professioni e di corsi universitari di vario genere e natura gli educatori mica esistevano. Stiamo parlando oggi di qualche centinaia, migliaia di educatori, il nuovo sottoproletariato che io lo chiamo così, che ha sostituito la classe operaia perché stiamo parlando sia nel pubblico che nella cooperazione sociale o nell'associazione di stipendi che vanno tra gli 800 e 1200 euro, 1250 euro. Quindi il fenomeno si è molto gonfiato. Su questo fenomeno facendo una, quindi questo fenomeno del passaggio dalla moneta alle prestazioni, io così lo chiamo, all'erogazione di prestazioni, con un'idea sempre più segmentata. E qui c'è la prima polemica che faccio con me stesso dal punto di vista professionale e con voi. È chiaro che poi questo flusso ha seguito gli andamenti del 900. Gli andamenti del 900 che sono entrati sempre di più diciamo in una tecnocrazia clamorosa si sono sviluppati attraverso le iperspecializzazioni. Cioè l'idea che ha seguito il mondo occidentale noi ci saremmo sviluppati, saremmo cresciuti, saremmo evoluti, ognuno usi questo. Più specializzavamo la conoscenza che c'era propria. l'operazione microscopio la scienza ha fatto esattamente questo tipo di operazione interessantissima che porta grandissimi risultati e bisogna chiedersi se è ancora sostenibile complessivamente questa cosa e quanto è efficace. E quindi voi vi interessate prevalentemente di handicap. Cioè siamo arrivati a cose clamorose, capite? la pet-terapia, la carezzo-terapia, la, la... c'è tutta una terapia, la... l'erba-terapia, che ne so io, la pugnoterapia, la sedioterapia, cioè l'asino-terapia. E' clamorosa, eh? Lo prendo con simpatia, eh? Non ce l'ho, io sono l'asino a casa in comunità. Quindi non è questo il mio... Però questo vi dice quanto siamo andati giù, capito? la logoterapia, la psicoterapia, eh... la psicomotricità, cioè minchia, una roba pazzesca, capito? No, non ci sono più le persone, ci sono le terapie. Uno, in teoria, dalle otto in mattina, se è, non so, uno psicotico, dalle otto in mattina alle diciassette di sede, dovrebbe entrare in tutta una serie di processi terapeutici. ve l'ho detto che non so se arriviamo a stasera, però, avete invitato a me, è un problema vostro. No, ma lo dico come interrogazione, ma questo, con la più buona fede di chi è partito, anche immaginando, passate un tempo, di fare del bene, di contribuire alla felicità, di contribuire alla partecipazione, però questa ipersegmentazione che, ripeto, è stata, l'abbiamo copiata dall'ingegneria, l'abbiamo copiata dalla biologia, l'abbiamo copiata, cioè, nel sociale abbiamo letteralmente copiato il metodo, diciamo, dal meccanismo di produzione di valore che è avvenuto nei computer, abbiamo fatto la stessa cosa, seguendo invece, ad esempio, poco, l'evoluzione della fisica quantistica, c'è tutta una serie di altre invece evoluzioni che sarebbero state utili nella riflessione, a un certo punto questa cosa che si è gonfiata, 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 non regge più. Quindi, passaggio interessante che è venuto dall'assegnino dell'assessore al sabato mattina per, che ne so io, per comprare il latte al bambino, al servizio che preparava il biberone, lo portava al bambino, erogazione, ok? questa cosa non è più sostenibile. Avete capito bene? Non guardate indietro, se no finite come Lot nella Bibbia diventate di sale, non guardate indietro, fatevi qualche viaggio, salite un po', partite da Tarento, spendete 200 euro e andate, partite da qua e finite a Stoccolma, andate a vedere che quella cosa lì si sta completamente sgretolando. Io giungo, per fortuna. attenzione, è stato, ripeto, quello è stato il modo con cui abbiamo cercato di interpretare un principio nobilissimo, cioè il welfare universale è una vera conquista della società, è stato uno dei pochissimi, come dire, veri antidoti alla spudoratezza del capitalismo. Comunque ha cercato di distribuire un'accessibilità al benessere e alla convivenza, ha cercato, la vita si cerca sempre. Quindi il passaggio è se vogliamo tutelare e rispettare quel nobilissimo principio del Novecento, dobbiamo trasformarlo. appunto, per essere tradizionali dobbiamo entrare in una nuova forma di generatività di welfare, per rispettare esattamente il principio. Uso sempre questa metafora del fuoco, era una bellissima cosa che mi ha, mi ha, un giorno mi ha mandato il mio amico Mauro Magatti, poi vi lascerò un po' di libri. E questo compositore che era Mahler diceva rispettare le tradizioni non è adorare le ceneri ma adorare il fuoco. Un po' stessa cosa. Il tema è non confondere la cenere che è stata prodotta dal fuoco ma capire come si fa ad alimentare quel fuoco lì. Ecco, tenetelo presente questa cosa. O guardate che è anche il fuoco della vostra motivazione, di voi strimpellate, psicologhe, pedagogiste, con il ragioniera sei. Vabbè, non è che qui siamo andati molto meglio, eh. Dopo la doppia contabilità non abbiamo fatto cose, non siamo molto evoluti nel ramo. Comunque, il tema è come facciamo a custodire il fuoco. Sapendo che il fuoco per come è stato alimentato nel Novecento ormai si sta spegnendo. Come facciamo a alimentare? Qual è la legna nuova? Che cosa sapendo che ripeto che è una bella cosa importante che Taranto abbia questa tensione, è importante che ce l'abbia la Puglia, è importante che ce l'abbia l'Italia, io aggiungo è importante che ce l'abbia l'Europa. Secondo me questo è uno delle pochissime punti di come dire identità non entro nella polemica di cos'è l'identità europea. Cioè su questo noi ci connotiamo con una grande differenza sia verso Oriente Cina India sia verso Occidente America perché sapete bene invece che l'America ha preso sull'onda diciamo calvinista protestante un'altra un'altra via. Perché voi direte sì ma dice ma vabbè ma basta che spostiamo un po' di questa polemica che faccio tante volte con i miei amici del sistema sinistra un po' di soldi degli aerei militari non si fanno le guerre li mettiamo sul welfare io adesso non ho tempo di farvi vedere vi faccio dire dati alla mano noi spostassimo anche quasi tutto il bilancio statale di qua non ci stiamo dentro con quel tipo di modellino lì erogazione di servizi non ci stiamo dentro allora dice ve lo dico diciamo per Milano perché Milano è un posto che si immagina efficiente giusto i Lombard io sono bergamasco mi stanno sulle palle un po' milanesi però vabbè insomma siccome ci lavoro faccio tante cose anche a Milano vi do l'esempio di Milano negli ultimi dieci anni negli ultimi dieci anni non negli ultimi cinquant'anni quindi rapidissimo il processo immaginate come evolverà accanto a quel mezzo miliardo che spende il comune le famiglie spendono in proprio più di 700 milioni di euro più del doppio capite voi dite ve lo cito badanti e no 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 non ridete stiamo parlando del fenomeno di emersione di lavoro nero più importante avvenuto in Italia dopo la seconda guerra mondiale che nessun cazzone di politico ha saputo governare con intelligenza anzi poi vi farò anche nomi e cognomi di cose gravissime successe negli anni 2000 è stato è stato indirizzato in maniera completamente perversa stiamo parlando dati CGL non dati giorni dotti io guardando li dicevo nel 2000 venivo preso per destra questi sommati stiamo parlando di più di 10 miliardi di euro di fatturato e di più di un milione di persone e stiamo badate bene parlando di soldi che regolarmente all'80% escono ogni mese dal paese c'è la più grande operazione di cooperazione internazionale pulendo il culo agli anziani mai avvenuta in Italia nessuna finanziamento alla cooperazione militare a quella civile a quella laica a quella cristiana aveva prodotto una montagna di denaro o sto parlando di una finanziaria che esce e va in Romania va in Moldavia e sapete la chi paga altre badanti perché nessuno va dietro alla vita di queste persone la 45enne che viene qua magari laureata in matematica che lascia là il marito alcolista e il padre con l'Alzheimer e la zia che tiene il figlio piccolo è certo che deve mandarla i soldi come fa? oh ma stiamo parlando di un fenomeno che vale di più di tutta la cooperazione sociale italiana ma dopo ci entriamo nella politica ma volevo io non so qui dov'è il posto dove si ritrovano io vi potrei fare almeno per 50 città italiane dirvi cosa succede il sabato mattina quando arriva un pulmino come avvengono gli scambi ormai siamo a tre mercati stratificati perché ci sono ormai le badanti diciamo normal le badanti jolly e le badanti ancora sotterranee perché poi c'è la scalatura etnica capito andiamo sempre più in là credo che ormai siamo all'Uzbekistan stiamo parlando di fenomeni adesso non ditemi che a Taranto non succede succede in maniera diversa da come succede a Roma che partì con i filipini o Milano che partì con gli slavi per accedere a Taranto il giovedì pomeriggio riscontrato la mezza giornata di riposo no e no ma per acquisire le competenze quindi di base all'assistenza quindi per le persone quindi che sono in fase ormai allettata però io mi rifaccio anche a quelli che sono le misure legislative adottate per per condonare la presenza di queste quindi persone cioè questi colpi di spugna che sono stati fatti che hanno gonfiato il fenomeno quindi i badanti anziché regolarizzarlo e dargli una dignità sociale non hanno fatto altro quindi che alimentarlo in maniera spropositata sì sì no ma non entravo diciamo nel merito del giudizio facciamo solo un fenomeno questo è uno il secondo fenomeno allora cioè quanti dal dentista vanno all'asla quasi nessuno quante donne dal ginecologo vanno all'asla meno meno del 40% comprese le badanti non vanno all'asla quanta psicoterapia si fa all'asla fatta 100 meno del 30% cioè tutta una serie no ma voglio che continuate a ragionare sul sistema non come dire dopo le valutazioni le facciamo dopo perché il problema per me è esattamente la prestazione è quello lì il problema per me capito per dire a Milano le badanti valgono tranquillamente altri 200 milioni sono a Milano ok e dall'altra parte tutto il pezzo diciamo di 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 che io chiamo sanità leggera o accompagnamento alla cura cronica o o a momenti di collasso esistenziale vale tranquillamente altri 200 milioni aggiungo nel frattempo la macchinetta o in Puglia potrei fare degli esempi imbarazzanti non perché non siano imbarazzanti in Lombardia ma ci avete anche voi le vostre belle ciofeche che è la motivo per cui possono arrivate le badanti tenete conto che comunque quando siete anziani andare in una casa di riposo una residenza sanitaria assistita o una residenza terapeutica la famiglia deve assolutamente integrare ormai perché siamo tranquillamente ad un costo che oscilla tra i 2500 e i 3500 euro la regione ci mette la metà se voi andate a vedere nel frattempo cosa è successo con quel gioco dell'erogazione delle prestazioni i bilanci delle regioni cosa che quando fu fatto il sistema sanitario nazionale non si sarebbe immaginato nessuno nessuno andate a rivedere la storia agli anni 70 sono tra l'80 e il 90% risucchiati dalla sanità una regione è sostanzialmente sanitaria e infatti qui guardo responsabile regionale le grandi menate politiche gli equilibri avvengono tutti intorno a quell'assessoratonia perché si mangia l'80 90% del fatturato seguendo il modellone di qui sopra prestazioni di tutto il fatturato regionale ovunque e bada bene in più si buca non basta quindi una città come Milano tranquillamente arriva su welfare a 1 miliardo 250 milioni di euro stiamo parlando di una città di 1 milione 300 mila abitanti capite? non sta in piedi più del doppio vuol dire che se spendessimo allora anche come stato più del doppio comunque non ci staremo dentro voi dite vabbè però potremmo sistemare ottimizzare parlamo di Dio uno spazio di sistemazione c'è si può fare un pochino meglio ma non è quello non è quella la questione e c'è un motivo fondamentale e c'è un motivo fondamentale che paradossalmente è di natura demografica noi nei prossimi 30 anni no? 300 anni la quantità di vita su per giù che avete voi che siete giovani avremo avremo gli over 65 che per la prima volta in 4 mila anni di storia di questo povero territorio a parte brevissimi periodi vicino alle guerre brevissimi però periodi perché poi la gente scopava come conigli subito dopo le guerre avremo strutturalmente gli over 65 che supereranno gli under 25 eh no eh no che cosa ci succederà se però io guardo cosa è successo in questi anni agli over 65 e noi ci aspetta una catastrofe economica cioè dire che strutturalmente per decine di anni anche se arrivassero flussi di immigrati clamorosi a parte che sono in decrescita i flussi di immigrati negli ultimi tre anni dire cosa che società sarà con gli over 65 che supereranno strutturalmente gli under 25 è veramente una grande domanda che tutti allontanano anzi si gioca sull'immaginario ma come tanto si vi va fino a 130 anni 140 anni giocando su un immaginario che tutti quanti avranno il Viagra scoperanno come Grilli fino a 120 anni gireranno per il il mondo avranno 10 amanti ma voi avete vissuto accanto a qualche nonno dopo i 70 anni allora parliamoci chiaro 2 su 10 non hanno un cazzo di problema 8 sono cazzi amari ve lo dico avendo perso la mamma per tumore e averla seguita negli ultimi 5 anni ve lo dico con un papà con l'alzheimer e il Johnny è una bravissima persona ha dei bravissimi genitori ha dei bravi fratelli ha dei sorelle è un casino ecco allora care psicologhe e care pedagogiste innanzitutto rendetevi coscienti di questa cosa qui e qualsiasi cosa fate immaginate prima questa cosa parliamo di handicap e no ma il vostro problema è sapere che porca puttana gli handicappati vivranno di più no 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 non ridete fenomeno sconosciuto nell'umanità in media fino agli anni 90 i disabili non superavano i 40 anni vi è chiaro questo e la soluzione che si trovava in quel gioco moneta prestazioni dopo vi dico come funziona la dinamica telecamera sono un po' volgar ma ci capiamo quale quale era la soluzione le soluzioni erano due i genitori mettevano via la pensione e l'assegno di accompagnamento cercavano di contrattare col comune il minimo di servizio che gli parcheggiasse un po' il figlio e sto parlando avendo moltissimi amici nell'Anfas nella Fisch essendomi interessato di disabili da quando ho 14 anni quindi sono ormai 40 anni questo era il film si faceva il gruzzolino sotto il materasso perché il gruzzolino serviva alla morte del genitore per darlo al fratello o alla sorella o allo zio diciamo ai due sangue perché per quei 4 5 anni si prendesse cura del Johnny con la sindrome di Down è chiaro il meccanismo voi mi spiegherete che a Taranto non è così ecco non rompete troppo i coglioni spiegatemi no beh ma allora questo per voi è un punto rilevante è un punto vi ho già dato una strategia e no dovete essere coraggiosi se no di cosa stiamo parlando di cazzatine capito masochista cazzatine cazzatine quello lì è un punto io conto che le famiglie italiane hanno via alcune decine di miliardi di euro sotto il materasso sapete cosa è successo però che non sanno più a chi darli non c'è più il Johnny perché il fratello Johnny del Massimiliano Down si è separato già tre volte no mi sono già separato eh vivo a New York e dice cazzo come faccio cioè come faccio a gestirti comunque ho uno stile di vita un modo vivo nel mio appartamento con quattro stereo dove cazzo metto il disabile mi seguite? questa era una via la via prevalente c'era un'altra via legata a piccole reti generalmente voi questi disabili dove li trovavate a fare il sagrestano col prete il famoso scemo del villaggio a Bergamo perché noi siamo dei caproni cazzoni quindi vichinghi lo trovavi lì lo trovavi in qualche casa di riposo parcheggiato lo trovavi lì all'entrata con la suora lì incappucciata e c'era sempre uno strano lì che gobbo lo vedevi perché poi morivano quindi erano tutte soluzioni provvisorie ora voi immaginatevi che siamo nell'ordine dei 150.000 disabili nei prossimi 10 anni che supereranno i 45 anni che vuol dire che supereranno la morte dei genitori con il meccanismo moneta prestazioni questi voi non li prendete le badanti i figlioli vengono da lì perché i disabili stanno seguendo lo stesso finché hanno fatto i cronici cosa fanno le famiglie si prendono una schiava se la mettono in casa gli lasciano anche un po' di eredità come ha seguito il nonnetto seguirà anche il massimiliano down e voi dove cazzo siete? voi i vostri servizietti lì dell'ostia delle terapie del nano questo qui è il film questo è il grande film vi ho detto che poi mi cacerete ma vabbè sono venuto per qualcosa questo è il grande film perché parlavo di convivenza parlando perché la domanda è ma che convivenza avremo? con voi che vivrete voi diciottenni vivete prevalentemente sulla realtà digital non sapete fare un cazzo manualmente non sapete mantenere una frustrazione per più di 20 minuti guardate che voi dovete pulire tanti di quei culi a un certo punto anche dei bisnonni forse avrete anche i trisnonni voi perché comunque noi vivremo di più c'è un problema c'è un problema di flusso c'è un problema di impostazione medico che è avvenuta non sto a polemizzarla io tra l'altro ho una moglie medico quindi ho un matrimonio complesso come potete capire è chiaro che c'è il più grande business nei prossimi 30 anni è esattamente la salute in occidente esattamente la salute ci sono interessi pazzeschi oh io non sono né contro la tecnologia né contro le medicine ma è chiaro che c'è un sistema tecnocapitalista che spinge come dire ad alimentare la sopravvivenza perché poi la sopravvivenza si paga ecco non voglio però appunto che mi si dica che poi io sono contro però è chiaro guardate che andate a vedere c'è cosa è successo sugli ospedali dove vanno a concentrarsi la maggior parte al denaro dove avvengono i grandi flussi ormai io lo dico gli ospedali saranno i grandi ipermercati tra dieci anni al nord è già così se voi andate all'ospedale nuovo di Bergamo o a quello di Como o a quello di Milano al piano terra è un centro commerciale che non vende più cose vende servizi ah voi lì potreste già piazzarvi ah no no ci sono già il gruppo di psicologi ci sono anche i frati capucini che vendono la vocazione ci sono le protesi ma no e no cioè dovete essere avete studiato e continuate a pensare non fermate il pensiero se no guardate che anche le cose più buone diventano delle aberrazioni quindi torno al punto di prima quel modellone lì moneta prestazioni che si continua ad alimentare che ormai ha sfondato il contesto tipicamente dell'amministrazione pubblica ed è andato sulle dimensioni del mercato vi ho fatto l'esempio del dentista del ginecologo della psicoterapia del pagamento della casa di riposo della badante cioè provate a pensarci mercati per darvi un'idea lo stato italiano spende circa diciamo fatto 100 miliardi in sanità ce ne sono già 35 sul privato miliardi dentisti ginecologi fisioterapisti con una quantità di nero mi siete mai chiesti ma perché che voi andate da una cioè mi fa vedere il ginocchio si prego entri ti fa così ti da un martellino dice ah bene i soldi passi dalla segretaria lei ti dà la busta e te metti dentro 150 ma siamo dei deficienti ma perché gli devo dare 150 euro ma noi glielo diamo perché è chiaro che lei lui è un grande potere qui andremo anche sull'immaginario di cos'è la vita ma non voglio andare lì e non voglio fare filosofia oggi e dice vabbè allora John allora tutto inutile no prendiamo le parti positive di quello che è successo il famoso terzo settore o badate te lo dico anche con sofferenza io ho contribuito a generarle alcune di queste cose sostanzialmente è stato un grande outsourcer del pubblico la cooperazione sociale sostanzialmente all'80% ha permesso l'universalizzazione dei servizi negli enti locali oggi anche a Crotone si fa l'assistenza domiciliare questo è successo perché quel blocco poi delle delle piante organiche degli enti locali e la capacità di autoorganizzazione che è avvenuta prevalentemente attraverso la cooperazione sociale diciamo comunque il terzo settore organizzato poi ci sono state le leggi ha permesso comunque che quel passaggio da moneta a prestazioni avvenisse anche in Italia quel film lì è finito finito capite bene non rincorrete minchiate di relazioni con la pubblica amministrazione su quel tipo di modello lì eh anche io vorrei come la cooperativa i sette ponti avere l'appalto che mi garantisce 250.000 euro per seguire i dieci ragazzini non ho stato chiaro? ecco non seguito quel modello lì quel modello lì comunque è declinante e non c'entra Renzi il vostro presidente della regione Berlusconi che contano poco che un cazzo rispetto a ste grandi dinamiche ce ne sono proprio dei poverini non moralmente dico non hanno grandi possibilità di torno a dirvelo i vincoli del macrosistema sono così forti però appunto è successo che nel frattempo la seconda quindi erogazione non dirla più per piacere no no perché guarda che erogare dal punto di essere l'immaginario è aprire un rubinetto erogare l'acqua si apre un rubinetto non sai da dove viene l'acqua tu no il welfare non si può più erogare anzi se si eroga si eroga veleno non si eroga welfare il welfare si genera si genera ma voi nella vostra follia di giovani virgulte l'avete secondo me intuito questo dovete dargli come dire piano piano uno spessore una forma guardando avanti non guardando non guardate indietro ogni tanto trovate gente anziana come me che vi racconta i tempi degli alpini come succedeva quando andavi dal comune ti facevi pagare il servizio robe delle guerre mondiali così così perché quello è stato il meccanismo che ha estratto sostanzialmente pensate ai bilanci dell'impresa sociale ha estratto circa 7-8 miliardi di euro dai bilanci dei comuni piuttosto che li spendessero in minchiate in festa della salsiccia piuttosto che l'illuminazione a luci rosse del corso Magna Grecia è meglio che li abbiano spesi per aprire un servizio assistenza omiciliare si è costruito tutto un film gli accreditamenti ecco finito finito tutto tutto finito poi come al solito in Italia le cose marciscono lentamente ne escono i funghi i tartufi c'è quello che si fa la sua roba i vermi ma lì lì non viene fuori più valore ma non viene fuori più valore per la vita delle persone e questo è il mio punto poi dice ah ma allora la regione non avrebbe un ruolo il comuno no no ce l'avrà non è più quello di prima e ripeto anche se immaginassimo di andare a una fiscalità del 60 70% cioè adesso vuol dire che è irregibile mettiamo più in piedi giusto bisognerebbe arrivare al 35 cioè bisognerebbe abbassarlo almeno di 15 punti quindi immaginate voi il modellino della prestazione di servizi che sta su sulla fiscalità generale cioè parte destruenz l'avete capita? si capisce o non si capisce? proviamo a vedere se l'abbiamo capita bravo non lo darei per scontata no neanche io no no per fare l'orgoglioso ma non è che c'è tanta gente che vi racconta il welfare così capito tutti vi spiegherebbero la 3 2 8 la 4 6 6 la 2 8 5 due palle pazzesche invece bisogna guardare le tendenze che sono in corso e la vita guardate sempre la vita guardate quello che vi succede accanto il welfare è quella roba lì siate molto concreti nel guardare cosa succede a vostro nonno al vostro figlio al vostro marito al vostro amante alla vostra sorella come questi risolvono i problemi perché è quello lì il punto su cui appunto il welfare prende quando andate in ospedale cosa vi succede quando andate dal medico cosa vi succede quali sono istintivamente le cose che vi viene da scegliere perché è proprio un sistema in cui siamo immersi quindi prendere coscienza vuol dire anche riuscire a fare forse un cambiamento forse dai non ci credo che siete d'accordo su tutto perché so che sono sempre un po' fastidioso dopo quello che ha detto probabilmente stiamo facendo la cosa giusta perché noi lavoriamo e sono le famiglie che prima mettevano i soldi sotto al materasso adesso invece pagano avete cominciato la via giusta il servizio che noi eroghiamo però in macchina ho sentito che state già guardando indietro sì perché il nostro timore la nostra paura è che un genitore non potrà sostenere questo costo a lungo termine cioè quanto? 10 anni? 20? è troppo poco questo ad esempio ma poi sulla parte concreta aspettiamo domani mattina su alcuni suggerimenti poi voi farete quello che volete adesso a me interessa mi interessa provare a spaccare il grano capito? vediamo se tiriamo fuori un po' di farina se facciamo un altro pane mentre la sentivo parlare dicevo ma ma qualche idea doveva già esserti venuta dalle cose che ti ho detto come minimo dovete fare un immobiliare servono le case per i disabili sì e quello era già sì sì ma era già nei nostri quando vi ho chiesto del centro storico e voi dovete assolutamente interessarvi al centro storico di Taranto voi dovete non far darvi soldi al comune fatevi dare qualche casa da ristrutturare ci abbiamo anche provato sì ma per far cosa la sede è la tua no 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 anche gli appartamenti gli appartamenti per ah no no dopo arriviamo all'appartamento altra prova da cancellare dalla basta appartamento case case appartamento ha la stessa radice di apartheid cazzo capito io vengo da una generazione che ha fatto le marce per Mandela e io voglio delle marce contro gli appartamenti appartamenti appartamento significa separazione capito noi con quei trassi demografici che vi ho detto prima se staremo separati saremo morti morti anzi non ci troveranno neanche morti ci troveranno dopo qualche anno mummificati con i gatti che ci hanno cagato sopra morti no e ci voglio arrivare cioè case luoghi dove stare insieme tu sei masochista quindi va bene questa tendenza al masochismo aiuta la riflessione allora erogazione no 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 per capire se ho capito appunto si faceva l'esempio prima del rubinetto quindi presuppone il fatto che ci sia qualcuno che ha e qualcuno che non ha quello che ha in un certo senso ha un anche un po' di presunzione ma diciamo anche buonismo nel dare qualcosa a un altro no nell'erogazione statale c'era l'idea che lo statio intermediava come dire impersonificava questa entità morale che permetteva l'equità questo era questa cosa è fallita però questo presuppone il fatto che c'è qualcuno in Italia in alcuni casi non è neanche partita ma questa cosa è fallita sostanzialmente in Europa capito ah non qualcuno sei tu che paghi le tasse no si 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 dico questo sistema però per capire si fonda sul fatto che c'è qualcuno che non ha e che è nella condizione di dover avere quello che gli manca o no quando ti dicevo è stata un'idea è stata un'idea di ridistribuzione di equità di un capitalismo vorace l'idea era tu guadagni 100 tu guadagni 200.000 attraverso una transazione progressiva perché questo dice la nostra costituzione tu riequilibri diciamo l'accesso alla convivialità attraverso torno a dire prima è stata monetizzata e la pensione invalidità si immaginava solo che alcuni ne avessero bisogno che mediamente invece questa cosa stabilito che la scuola era pubblica e la sanità era pubblica era sufficiente ampiamente purtroppo non è così perché ne fa tempo è cambiata la struttura demografica sono cambiate le condizioni è cambiato il modello produttivo sono cambiate cioè l'idea era fordista sostanzialmente infatti nasce in un periodo fordista della fabbrica con situazioni molto stabili dove le persone sono molto stabili si evidenziano le differenze e qualcuno che rasa in C sopra e rasando poi lo Stato ridistribuisce era una bella idea dico solo che uno non sta più in piedi e secondo non è più efficace chiaro e c'è nero ormai per usare l'esempio delle questioni di prima per me questo condurrebbe magari c'è tempo anche delle riflessioni politiche economiche e di vario genere natura ma se stiamo fermi al welfare capito era lo Stato che erogava attraverso l'ASL attraverso il comune attraverso la provincia attraverso la municipalizzata attraverso erogava ok e l'attivazione delle forme di servizio in Italia è stata moltissimo fatta al terzo settore quando abbiamo fatto il caso di Milano ormai sono arrivati a 50 e 50 in alcuni casi è 70 e 30 tutta l'espansione del terzo settore anche in termini di fatturato viene prevalentemente da soldi pubblici capito o no? ed è stata comica che il terzo settore non ha visto nel frattempo le badanti non ha visto l'integrazione delle rette all'RSA non ha visto i dentisti non ha visto i ginecologi non ha visto la psicoterapia non ha visto le forme nuove pochissimo perché era tutto preso se voi guardate l'agenda dei dirigenti del terzo settore prevalentemente incontrare l'assessore incontrare l'assistente sociale incontrare quello del servizio quinto incontrare quello del servizio sesto cioè si è creata una forma mentis che io chiamo da parapubblico non era in sé sbagliato non ci si è accorti che però nel frattempo il film i bisogni delle persone le aggregazioni sociali andavano da un'altra parte e noi siamo stati fermi sull'idea prestazionale quando io parlo soprattutto delle cooperative sociali di cui ho avuto grande responsabilità nel piccolo e nel grande su cui ho fatto cose e abbiamo fatto cose gloriose però potrei citare le cose non avvenute a Taranto che potevano già succedere qui c'era un consorzio che si chiamava Solidale con venti cooperative ma è chiaro è stato tutto bloccato con i soldi del pubblico non siamo mai riusciti a spingerlo ad andare oltre sono molti di quelli che fanno i centi diurni per i disabili cioè questi disabili che fanno le perline fanno sti cazzo di portafogli di cuoio bruttica una produzione di bruttezza pazzesca che uno vuole anche che li compri ma perché devo comprarti una cagata ma cosa ti compro queste cose di ceramica brutto brutto perché tanto pagava il pubblico tanto quella roba lì l'oggetto non contava perché contava la relazione psicologica ma vaffanculo ma vaffanculo di cosa stai parlando alla fine c'hai dei piccoli lager cioè non siamo usciti attraverso questa cosa tra l'altro dei processi di istituzionalizzazione ne abbiamo resi più appartamenti capito più piccoli non è più il grande istituto di sordomuti c'hai il centro diurno dove quello per vent'anni va lì e infila perline io non sa più ma perché infila perline nel frattempo però la mamma muore lui resta solo e che succede? va tra i cronici nell'RSA e costerà 3.000 euro al mese che innovazione abbiamo fatto? niente la tiro molto invece stanno succedendo cose molto interessanti però bisogna bisogna avere un'altra visione su quella vecchia visione per me e quindi voi segretaria tu voi dovete pensarci invece se siete ancora interessati a quella visione lì è legittimo no fermate è legittimo dovete però allora fare dei passi dovete cominciare ad esempio a immaginare che dovete allargare i mercati come minimo vi dovete muovere su tutta la Puglia come minimo perché la redditività di quei mercati si è abbassata capito? allora dovete fare il franchising della comunità aprire rapidamente altre 20 sedi saturare il mercato qui servono un po' di economisti eh figliola non devi fargli solo due cazzo di fatturine devi fargli ragionare no 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 vi voglio cioè avete l'età in cui avete ancora il cervello bello sveglio eh e coraggio suggerisco prendete il traghetto andate in Albania cominciate a muovervi di lì cioè se qualche volete portare avanti è solo la vostra filosofia di intervento che sia comportamentista che sia piagetiana che sia lacaniana che sia di mio zio mercati grandi se avete in mente voi stessi il vostro stipendio rapidamente muovetevi di lì se immaginate che il vostro stipendio perché prima o poi tirate fuori uno stipendio oh che cazzo questo è anche di dignità è macca anche perché non dura se no capito? non dura non dura che il vostro stipendio lo possiate fare con gli altri a Taranto dovete avere un'altra visione non quella di moneta e prestazione quella lì non regge hai capito o no? no no la mia no no ma io sono voglio capire come fare no 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 Massimiliano vedi che sei anche sadico non solo cazzo sei sadomaso me l'avete ridotto veramente c'è roba la terapia di un anno e mezzo però è esterno al gruppo perché il gruppo guardate e magna se no il come in questo momento adesso alle 11 non è il problema io voglio vedere che cosa state cosa guardate è un'illusione tecnica quella del come state molto attenti capito? se io adesso ti passassi delle slide e ti dico come ho fatto a fare 40 centri di welfare italia e tu che fai? comincierei a dire ma io qua non posso perché questo non posso farlo comincierei a dire eeeh è così è così allora mi succede a Crotone mi succede a Bergamo se io ti do il come come se fosse una ricetta vaffanculo sei rimasto ancora all'erogazione io non ti erogo un bel cazzo hai capito Massimiliano? non ti erogo nulla no 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 ma è per curiosità perché curiosità di che? mi vedo un limite cioè un limite mio nel senso nel nel senso è proprio una questione di curiosità nel senso di capire di immaginare ah ma come cacchio si fa stiamo stiamo un po' sull'immaginario che cosa volete fare? che finalità hanno le cose che volete fare? che politiche hanno? su che alleanze si costruiscono? poi c'è il problema della tecnica del come dopo c'è quel problema lì non c'è prima se non destrutturate il vecchio immaginario non c'è niente da fare appoggiate una topa nuova su un tessuto vecchio si strappa tutto eh ma io credo che noi stiamo facendo una solturante immaginazione verso il futuro in quanto la nostra idea è appunto quello di generare e non di erogare dei servizi perché lavorando sull'autonomia delle persone la nostra idea è quella di renderli dei cittadini che sono attivi che non stanno più lì passivamente ad accettare che qualcuno eroghi dei servizi per loro che gli dia la pensione l'assistenza e quant'altro ma persone che sono capaci di poter loro stessi generare altro generare economia cioè questa è la nostra idea di far sì che l'economia possa girare in questo modo che non vengano qui persone con disabilità che noi dobbiamo fare il lavoretto con le perline perché siamo tutti d'accordo su questo siamo noi i primi a dire queste persone intorno al tavolo non ci devono stare sono un po' volgarizzata però così ci capiamo no no perché quello che noi condividiamo siamo fermamente convinti di questa cosa perché stare lì seduti a fare le perline a fare questi libretti che possono essere belli o brutti che siano non danno niente che cosa insegna che apprendimento c'è apprendimento di motricità fine sì ma poi quello che dico però vedrai che quando cammini però vai su quella strada lì a un certo punto arrivi a un muro voi siete molto vicini al muro adesso ok sì sì è vero perché ci troviamo in una situazione ma lo dico nel senso buono ma bene o male provate l'impotenza dell'andare oltre torno a dirlo bisogna ancora rifare un passettino indietro e avere uno sguardo più largo perché se andate sulla strada che è solo legata alla vostra specializzazione alla vostra professione trovate il muro se andate su quella strada lì andate in Albania ma ve lo dico come suggerito vi aiuto anche ad andarci andate in Macedonia muovetevi nella parte verso il sale come si dice verso Salerno cioè andate verso Matera le altre cioè se vi muovete sulla specializzazione dovete molto allargare il mercato no si chiama mercato punto lo chiamano in altra massa c'è mercato fine dovete vendervi allora c'è il vostro problema dovete fare così se volete stare dentro questa comunità dovete fare altre cose no noi ci vogliamo allargare vogliamo entrare nel mercato perché la nostra idea è quella è cercare di capire come entrare in questo mercato perché è come se cioè le idee ci sono ma c'è qualcosa che come dire ancora non ci permette di dire ok come ci possiamo guardare ora che è una risposta pesante questa io non sono più adeguato a farti io ti posso dare i suggerimenti ma io ho scelto la comunità non ho scelto il libero mercato su bisogni che per me sono fondamentali per l'uomo io non sono disponibile cioè preparatevi allora vi do qualche indirizzo di assicurazioni all'AXA le generali questi saranno grandissimi mercati dell'assicurazione grandissimi mercati alleati con le regioni perché poi le regioni per continuare a mantenere il controllo politico sulle vicende saranno costretti a immaginarsi come si è fatto il project financing per fare i ponti e per fare l'RSA si farà anche sui bisogni quotidiani delle persone questo succederà è mercato quello capite? ma questo non è che a me mi fa schifo osservo questa cosa e poi dico vabbè ma io quella mia vita quel che ho fatto che cosa sono interessato per quello che vi dico voglio che stiamo un po' di più sulle finalità e su dove volete andare sulla visione perché dopo i come e sono tanti i come sono tanti i come vi suggerirei allora di allearvi con i conti correnti delle banche guarda che vi sto parlando di cose normali non si tratta se immaginate il marketing sull'allargamento di far meglio un volantino di fare meglio un'intervista a Telenorba si tratta di avere gli interlocutori giusti che vi allargano il business appunto capisco eh che nelle riprese erano massacrate sembra una bestemmia ma tanto tanti lo stanno facendo è questo che vi interessa avete cominciato a fare questo lavoro per questo? Attenzione eh io non sottovaluto il marketing non sottovaluto il conto economico non sottovaluto il conto patrimoniale ma devo sempre dimmi ma io dove voglio andare cosa immagino a cosa voglio contribuire che valore voglio generare queste sono caro mio domande fondamentali prima del tuo cazzo di come capito? se voi scavallate quel punto lì guardate che siamo entrati esattamente in crisi nel 2007 perché non ci siamo fatti più la domanda né qualcuno ci ha condotto esattamente a schiantarci dentro un certo muro eh cioè non è che siamo andati in crisi perché c'erano due ladri in America che vendevano polizze sulla casa a prezzi inusitati eh perché siamo andati tutti di lì eh bene alt pausa di 5 minuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti